Se si desidera aggiungere un profilo orario per i Relay in ePassan Manager, iniziare facendo clic sul pulsante Utenti e Profili di accesso. A questo punto utilizzare le opzioni a discesa sul lato sinistro, per selezionare Profili temporali e poi Profili temporali Relay. Cliccate su Aggiungi un profilo orario Relay e inserite un nome per il nuovo profilo orario. Ora selezionate il periodo di tempo per l'accesso libero, il che significa che le porte, le uscite e i piani, sono accessibili senza una credenziale valida durante questo periodo. Impostare quindi il periodo di tempo per l'accesso vietato per i momenti in cui nessuno può accedere, anche con una credenziale valida, mentre i periodi di tempo rimanenti, dovrebbero essere per l'accesso normale. Quando si utilizza una credenziale valida, è sufficiente selezionare le porte, le uscite e i piani a cui si applica questo Time Profile. Infine, fare clic su Salva. Il nuovo profilo orario dovrebbe essere visualizzato sul lato sinistro.